Stupendo. Diego Batantuono, che fai qua? Eh? Eh? Che bello ambiente che hai. Ah, bello, vero. Petruzzello. Splendido. Ma giocati qui allo stadio Petruzzello un anno. Non è lo stadio, è il teatro Petruzzelli. Teatro Petruzzelli. È il stadio Petruzzello questo, ma parlava che stupendiceggiatura che vedo anche. Questa è la scenografia che Ramaccio ha fatto per noi. E il balletto d'Azur, quello qui, le piume. Eh, quello è il balletto delle ragazze al neon, che ci ha accompagnato. Cosa c'è che non va? Ma fammi un attimo. Fa terremorare, fa un ciri. Va bene, posso andare? Sproporzionato, mi pare. No, neanche di che è eccendica. Deve sproporzionato sotto un certo punto di vista. Allora, cosa vuoi dire, sproporzionato? Oh, eh. Che vuoi fare parte con me della squadra dei maialo rosa? Vuoi farlo? Facciamo dare. Diego. Scusa, volevo, io volevo scusami perché sono un po' affano. Sì, cosa è successo nella tua voce? Sì, è vero, è vero. È affano. No, no? Ecco, io invece lo sento. No, perché questa è stata una giornata stupenda di sport. È realmente emozionante. Perché proprio oggi mi sono... Eh, mi immagino il campionato italiano, vuoi dire la Roma che è campione d'Italia. Sei romanista? No, che me ne frega. Il Milan, 0 a 0. Ma che c'entra il Milan? E' quello che mi sono scoperto. Provate, ma adesso quando è che... C'è la mia amica, quando si esibisce la... Berzot, dov'è? Berzot? Che c'entra il Berzot? Che non è azzurro per la festa della nazionale. Ma sì, è azzurro, ma azzurro. È un campionato italiano o della canzone? È una cosa diversa? No, ma mi hanno garantito che c'è... Io c'ho appuntamento con Caprini. Ma non qua, guarda, ti è sicuro non qua. Caprini non c'è. Avevo appuntamento con Caprini. Ma c'è Caprini, guarda. Ma non è vero. Adonio Sant'Agata. Sì, sì. Eh, Adonio Sant'Agata non è certo Caprini. Non gli somiglia neanche un po'. Proprio no. Ma dite che c'erano Caprini, Sciresa, Berzo. No, mi dispiace. Non sono venuti. Allora, ma non vado, ma che me ne frega. Cioè, resterebbe a te perché sei molto elegante, super affina. Puoi fare solletico. Vabbè, te lascio. È stato bello fangaturato. E grazie a Petruzzello per questi spenditi da cornici di feste stupendo da Bari. E speriamo che i Bari si salvano. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Diego. Diego Batantuono. Beh, è stata una sorpresa. Allora, come vi dicevo, adesso siamo, entriamo nel vivo della serata, nel vivo della manifestazione perché questa è soprattutto una gara, come abbiamo detto per varie volte. È un cambio...